Ci sentiamo impotenti di fronte ad un unico nemico invisibile. L'unica arma a nostra disposizione è l'isolamento. Isolamento dai nostri cari, dalle nostre passioni, dai nostri amori. Ma abbiamo una cosa in questo periodo molto più importante, il tempo. Tempo per pensare, ascoltare, creare. Tempo per guarire dalla superficialità che stava prendendo il sopravvento. E domani lo sapremo raccontare con la nostra arte. Sapremo raccontare della voglia di vivere, di credere. Di danzare che non ci ha mai abbandonato. Perché la danza è vita. È lotta. È sogno. È futuro. Oggi vi partiamo tutti da capo. E ora più che mai dobbiamo dimostrare la nostra forza. In un momento storico che ci vuole fermi, noi dobbiamo mettere in moto la nostra positività. Trasformandola in bellezza, come abbiamo sempre fatto. Teniamo in caldo i nostri motori. Perché presto... Vi danzeremo. 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 Grazie a tutti